Se state avendo problemi riguardo a Enotria che si è arrestato in modo anomalo, sempre per colpa dei giochi fatti con Unreal Engine, cioè chi non riesce a sopportarli oppure non sono compatibili con le vecchie versioni dei driver che hai sul tuo computer e quindi il gioco può crashare. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato così dei link che ti porteranno sulla pagina per aggiornare i driver della tua scheda grafica e aggiornare così anche il supporto Microsoft sul tuo sistema operativo grazie al Visual Studio dal 2015 fino al 2022 dell'architettura per 86 o per 64. Ti consiglio di scaricare e installare questi due qua e poi abbiamo quello del DirectX per la scheda grafica Web Installer DirectX End User Runtime. Facciamo così scarica, scarichiamo così questo software, entriamo così nel setup del DirectX, accettiamo così il contratto e facciamo avanti. Non installiamo il Bing Toolbar perché è solamente un motore di ricerca, fai avanti e installi così i DirectX. L'ho installato veramente un sacco di volte e lo tengo già installato nel computer. Se non dovesse funzionare prova così a scaricare i driver Nvidia su Nvidia App, una volta scaricata così la versione beta, la installi, fai direttamente su Nvidia. Ed eccoli qua, driver. Come puoi vedere io ho appena scaricato e installato l'ultimo driver rilasciato del 17 di settembre di driver studio. E abbiamo anche quello di Drive Game Ready. Che devo ancora installarlo che risale all'11 di settembre. Installiamo e basta. Una volta fatto devi riavviare il tuo computer. Se non dovesse bastare andiamo direttamente sul tasto destro su Start, gestione dispositivi. Scendi fino a giù fino a trovare le tue schede video. La tua scheda video aggiunga driver. Cerca il driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili. Inseriamo così la prima. Oppure puoi inserire questa qua del 5 di settembre. Io per esempio ho questo modello del 5 di settembre 2024. Ho solo questi due qua. Quindi non mi basta che cliccare qua e scarico così driver. Una volta fatto vai direttamente sul gioco, tasto destro sopra, mostra attropazioni, proprietà, compatibilità, disabilità, ottimizzazione schermo intero, eseguiamo il programma sempre come amministratore, facciamo applica e ora non ci resta che avviarlo come amministratore. Quindi se si arresta in modo anomalo durante la partita oppure si arresta quando avvi il gioco, puoi risolvere il problema usando questi passaggi. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao!